Non è un programma tipo, è un programma un po' speciale oggi, ma non eccezionale e fa schifo come tutti gli altri giorni. Voglio dire che è un programma soltanto un po' particolare, nel senso che oggi vi devo spiegare come è fatta la casa, anche perché voi stessi possiate ambientarvi. Qui c'è un salottino, come vedete, dove ci sono dei miei cari amici, direi degli amici molto simpatici, catalano che suona la tromba e certo, come dici? Frate Antonino, casalano che sei, ti vedo un po' incantato. Non sono incantato, sei passato a frate, amo molto queste tue serate, avvengono di notte, io non vorrei dire una banalità, la notte sai che fa, la notte porta consiglio, la conversazione inizi sempre con una cosa intelligente, con una profonda eccetera. Signor Arbere, di bene in pace, di pace in meglio, di bene in bene, sono frate Antonino di Scasazza, provincia di Agrigente Trapani, stiamo facendo con la RAI, stiamo facendo un concorso, il concorso Cuore Toro 1985. E' quello che vogliamo dire, noi vogliamo sponsorizzare, non pensate che tutti quelli della notte sono dei disgraziati eccetera, vogliamo anche sponsorizzare delle cose utili, facciamo un concorso dove ci scrivete i vostri comportamenti puliti, ci scrivete qui alla RAI e noi poi facciamo una specie di classifica, una kit parade, una kit parade dei comportamenti buoni, sarebbero delle buone azioni in particolare. Sì, 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 e poi ci sarà una festa a Scasazza il 29 giugno dove faremo Scasazza, mi raccomando non dimenticate, il 29 giugno. Con la Z si pronuncia, Scasazza, Scasazza, con la Z. Sì, facciamo poi una festa, un music show con complessi e ci sarà anche la premiazione per il vincitore del concorso Cuore Toro 1985. Grazie. Poi parliamo anche dei premi. Grazie.